ciao ragazzi sono antonio ricco di lezione di chitarra moderna.com e benvenuto al mio corso guida ai pattern ritmici un corso problema del chitarrista principiante e non è quello di non avere un buon senso del ritmo spesse volte si va a finire che si suonano sempre gli stessi ritmi e non si dà il giusto senso al brano perché perché non si il chitarrista non ha preso il tempo per sviluppare il proprio senso del ritmo ecco perché ho pensato di creare questo corso dove affronteremo tutte quante le tematiche e le tecniche per sviluppare un buon senso del ritmo quindi guarderemo allo studio dei diversi ritmi delle diverse pause di come creare accenti sincopazioni acciaccature nel ritmo così da creare sempre ritmi più complessi più espressivi se vuoi saperne di più su questa pagina trovi tutti quanti i dettagli del corso e ovviamente c'è anche il bottone per acquistare se invece stai guardando questo video sui social media semplicemente segui il link che trovi nella descrizione oppure che appare sul video e mi raccomando se vuoi sviluppare un buon senso del ritmo questo corso fa per te segui il link e ci troviamo in classe